Oggi sono qui per comunicarvi una cisione importante. Prima però vorrei fare alcune considerazioni. Torino in questi cinque anni è cambiata. Quando diventi sindaca al centro non c'è più la tua persona, c'è la tua città, la tua comunità che rappresenti. Torino dal 2016 è stata sempre il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Qui ho la fortuna di vivere e adesso di poter crescere mia figlia Sara. Poterla amministrare è stato ed è il più grande onore che potessi avere. Questo percorso di cinque anni è indubbiamente iniziato in salita. Ricordo benissimo il primo dossier che mi piombò sul tavolo appena letta. Il Salone del Libro stava per andare a Milano. Con un grandissimo lavoro di squadra non solo il Salone del Libro è ancora qui, ma le edizioni successive sono state uno straordinario successo. Penso poi alle difficoltà di bilancio della nostra città, estremamente importanti ma sempre troppo poco conosciute. Abbiamo lavorato giorno e notte per evitare il dissesto della città che avrebbe portato drastici tagli dei servizi e alla fine non solo abbiamo garantito i servizi, ma per la prima volta dopo 24 anni abbiamo approvato il bilancio entro l'anno, aprendo così la strada a investimenti e programmazioni precise per i cantieri della nostra città. Ma in particolare penso a una Torino che sembrava aver smarrito la bussola, illusa che il turismo da solo avrebbe potuto sostituire la produzione industriale. Aveva perso la propria identità manifatturiera senza saper pensare a un futuro che potesse garantire non solo lo stesso benessere ma nemmeno gli stessi livelli occupazionali. E a farne le spese sono state soprattutto le fasce più deboli nelle periferie della nostra città. Ora guardandomi indietro penso proprio a quella Torino e a come è cambiata in questi cinque anni. Avevamo delle priorità chiare. La prima far tornare Torino ad essere punto di riferimento nazionale internazionale dell'impresa affrontando le sfide dell'innovazione per creare sviluppo economico e posti di lavoro. La strada è ancora lunga ma sorgeranno qui due importanti distretti industriali per l'aerospazio e l'auto elettrica. I primi in Italia di questo tipo con 150 milioni di investimenti. La nostra città è stata la prima in Italia a sperimentare l'auto a guida autonoma aprendo a nuovi orizzonti per opportunità di ricerca, lavoro e sviluppo. Ed è notizia di pochi giorni fa che grazie al lavoro fatto sarà Torino la città che ospiterà la sede dell'istituto italiano per l'intelligenza artificiale con 80 milioni di budget annui e 600 nuovi posti di lavoro. La seconda priorità interventi per le periferie per il welfare. Ci siamo messi subito al lavoro su vere e proprie emergenze sociali da troppo anni abbandonate a se stesse. Ecco che l'occupazione abusiva dell'ex villaggio olimpico come i campi rom di Corso Tazzoli e Via Germagnano sono finalmente ricordi del passato. Avevamo il dovere di mettere la parola a fine e lo abbiamo fatto. Abbiamo portato avanti decine e decine di interventi nelle periferie su scuole, giardine, aree verdi con un investimento di 45 milioni di euro del fondo Apertò a cui e lo dico chiaramente dovranno seguire almeno altrettanti nei prossimi anni. Abbiamo poi messo in piedi un piano di inclusione sociale che vale 9 milioni di euro con percorsi di accoglienza, co-housing, sossegno alla genitorialità e percorsi occupazionali. Ancora nel 2020 investiamo oltre 15 milioni in interventi sulle manutenzioni stradale che interessano tutta la città da Barriere di Milano a Mirafiri Sud. E infine ma non per importanza ambiente e mobilità, sfide del nostro secolo che per Torino sono e saranno determinanti a cui tengo particolarmente e per questo ci tornerò tra poco. Lasciatemi poi ricordare la vittoria delle ATP Finals. Da novembre 2021 per cinque anni Torino sarà il palcoscenico del tennis mondiale, un evento diffuso in tutto il mondo con oltre 600 milioni di ricadute sul territorio in cinque anni. Siamo riusciti a risolvere tutti i problemi della città? Ovviamente no, ne sono e ne siamo consapevoli. Tuttavia le tantissime cose che abbiamo portato a termine mi fanno dire con grande orgoglio e a testa alta che in questi cinque anni abbiamo fatto un lavoro enorme. Per questo lavoro vorrei dire grazie a tutte quelle persone che si sono spese per questa amministrazione e quindi per la nostra città e vorrei dedicare un ringraziamento particolare a questo governo. Per la prima volta dopo diversi anni Torino è stata costantemente al centro dell'azione dell'esecutivo. Ora, come sapete, qualche settimana fa è stata pronunciata nei miei confronti una sentenza di condanna per un'errata imputazione a bilancio di un debito atipico, ereditato dal 2012. Come è stato riconosciuto ho sempre operato nell'esclusivo interesse del Comune che al massimo mi accusano di aver favorito ingiustamente. Io sono assolutamente certa di aver sempre e solo salvaguardato gli interessi dell'ente che amministro e soprattutto di aver agito in totale buona fede e per questo farò ricorso in appello. Tuttavia le tempistiche per arrivare a sentenza vanno oltre la scadenza elettorale del 2021. In queste settimane ho sentito una solidarietà, un affetto, una vicinanza umana che forse mai avevo sentito prima e che mi hanno dato una grandissima carica di energia e per questo davvero vi ringrazio dal profondo del cuore. Ma la condanna, anche si dileve nell'identità e per i motivi che conoscete resta tale. E in politica prima di ogni cosa bisogna essere coerenti con i propri principi e io continuerò ad esserlo. Per questo ho preso una decisione, non nego molto dolorosa ma necessaria. Dopo aver a lungo riflettuto ho deciso di fare un passo di lato. Non correrò dunque nuovamente per la carica di sindaca. Cosa succederà da qui a giugno 2021? Io continuerò a spendermi con ogni energia affinché i progetti avviati vengano portati avanti da chi verrà dopo di me. Perché Torino ha ricominciato a credere in se stessa e deve andare avanti più forte che mai. Torino deve proseguire sulla strada del cambiamento che abbiamo intrapreso. Torino non può tornare indietro. Io ci sono e continuerò a esserci per servire la città che amo. Il mio auspicio è che per il bene della città, con il dovuto senso di responsabilità, ognuno sappia mettere da parte gli interessi personali e di bottega. C'è in gioco il futuro di Torino, ancor più in un momento delicato come quello dell'emergenza Covid-19, la più grande crisi sanitaria, sociale ed economica dal dopoguerra ad oggi. Torino ce la farà, ne sono certa. I torinesi hanno già saputo dimostrare il loro senso di responsabilità. Se resteremo uniti ne usciremo più forti. Prima di chiudere, come dicevo prima, torno su un tema che l'avrete capito mi sta particolarmente a cuore. Un tema politico, perché comunque la si pensi è la politica, nel senso più alto e nobile, che condiziona la vita di ogni cittadino, di ogni comunità. E in qualche misura oggi voglio consegnarlo non solo a chi verrà dopo di me, ma a migliaia di cittadini. Parlo dell'ambiente, della sua cura, della sua tutela. Parlo dell'acqua che beviamo, del cibo che mangiamo, ma soprattutto dell'aria che respiriamo. Abbiamo iniziato a parlare di ambiente quando era ancora un tema che nei sondaggi sull'interesse dei cittadini trovava spazio alle ultimissime posizioni. Prima che un'onda verde di giovani a cui va, in mio più sentito ringraziamento, percorresse riempiendole le strade, sensibilizzando le comunità di tutto il mondo. Ricordo bene quando tra le emergenze della nostra città indicavamo proprio l'inquinamento dell'aria. Che lo smog a Torino fosse e sia ancora tra i peggiori d'Europa era al più una nota a margine del dibattito pubblico. Noi l'abbiamo posta come priorità politica. Lo abbiamo fatto perché la tutela del nostro ambiente, la riduzione dell'inquinamento, il contrasto al cambiamento climatico sono le vere emergenze di questo secolo. Lo dicono i drammatici fatti di cronaca di questi giorni, ma che siamo obbligati a leggere sempre più spesso. Lo abbiamo fatto mettendo tutto ciò davanti al consenso. Lo abbiamo fatto ascoltando chi la pensava diversamente, ma sempre andando avanti con determinazione in ciò che credevamo. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo. Lasciamo una Torino con un parco mezzi più green. Sono 150 nuovi pullman che vedete per strada. 100 nuovi autobus elettrici acquistati che arriveranno nei prossimi mesi. Un pullman su cinque non sarà più inquinante. 79 tram acquistati e in fase di costruzione saranno sulle nostre strade a partire da 2022. Un miliardo stanziato dal governo per la seconda linea della metropolitana. E le ciclabili. Più 50 per cento. Passiamo da 200 a 300 chilometri circa. 5 nuove pedonizzazioni definitive e 11 in via sperimentale. Restituiamo ai torinesi una città più verde. Sono 20.000 i nuovi alberi che abbiamo piantato in questi anni e ne faremo ancora altri. In questa città ce l'abbiamo messa tutta e continueremo a farlo ovunque sarà possibile. Vedendo anche realizzarsi ciò che è più importante. Un cambio culturale che vede nella cura del nostro pianeta la principale esigenza da cui far ripartire le nostre comunità. Io sono qui. Alle mie spalle vedete la mole. Il monumento che noi torinesi ci portiamo nel cuore in qualsiasi parte del mondo. Il po patrimonio naturalistico sulle cui sponde ha preso vita la nostra città. Da qui si vede chiaramente la pianta squadrata di Torino. Unica e inconfondibile. Quella che permette a noi torinesi di orientarci ovunque siamo e magari di perderci quando siamo nelle altre città. Ecco in questa città c'è un patrimonio di storia e cultura inestimabile che abbiamo ereditato e gelosamente conservato fino ad oggi. E poi più giù le nostre Alpi, Croce e Delizia. Quelle Alpi che Paolo Cognetti ha definito le montagne dei giganti. Quell'inconfondibile profilo che ci fa sentire a casa ma che guardiamo quasi ammirati ogni volta che da lontano vediamo le cime imbiancate all'arrivo dei primi freddi. Questa è Torino. Ecco di tutta questa meraviglia continueremo a prenderci cura nei prossimi otto mesi. Quando amministri una città immagini in anni, ragioni in mesi e lavori in giorni. Già perché sai che di giorni non puoi perdere neanche uno. Ognuno di essi è estremamente prezioso. In ognuno di essi avrai potuto fare qualcosa di più per la tua comunità. Quindi ancora insieme andiamo avanti. C'è ancora tantissimo lavoro da fare. Vi abbraccio.